Un'affirmatoria della vendizione, sono contenta, ho fatto in maniera vendita, anche a diversi politici, quindi sono contenta e speriamo che sfumino insieme a noi e che condividano le motivazioni di questa giornata che secondo me è meravigliosa. Sì, sì. Come potete vedere noi siamo arrivati, la piazza è piena e ci sono ancora migliaia di persone che devono ancora arrivare, è un successo questa manifestazione.